Ha riposto la raccolta differenziata e è arrivata alla sua seconda fase. Dopo l'avvio per gli esercizi commerciali, a partire da lunedì 20, sarà la volta delle utenze domestiche. Ad illustrare il programma ecologico, questa mattina a Palazzo di Città, il sindaco Enzo Caragliano, l'assessore all'ambiente Paolo Emanuele e i rappresentanti della Tech Servizi, dita che gestisce l'appalto della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Credo che abbiamo fatto un lungo rotaggio, la mentalità dei miei concittadini è pronta e ne daremo dimostrazione. Domani c'è un ulteriore incontro con le famiglie presso l'Ibub delle sue pallottine proprio per integrare questa maggiore informazione, con la collaborazione delle scuole. Siamo stati nella prima fase con i centri commerciali, con i commercianti, ora sono le utenze domestiche e chi da domani incomincia a prendere questo kit può differenziare. Quindi da lunedì a martedì incominciamo a vedere finalmente quelli che sono i risultati di queste differenziate per avere un vantaggio al ritorno. Avremo finalmente una città usufruibile, godibile e pulita nell'ambiente per un turismo sempre più incentivante per tutta la nostra estate, una bella estate ripostessa. In realtà si inizierebbe già anche da domani, perché domani è previsto il primo incontro nei confronti dei cittadini che riguarderà proprio gli abitanti della zona interessata che teoricamente va da via Vespri alla Villa Pantano, coinvolgendo via Piave, via Concordia, via Granata, insomma una parte del Corsi Italia e altre due o tre vie, se non mi ricordo male. E quindi già chi sarà presente alla riunione di domani avrà la possibilità di poter ritirare tutto il materiale che si vede alle mie spalle, che consiste in tre mastelli e tre buste telate proprio per dare al via questa raccolta differenziata che ovviamente adesso inizierà a coinvolgere man mano l'intera cittadinanza. Assolutamente sì, l'obiettivo è l'obiettivo di tutti, quindi non è solamente della società, dell'amministrazione, ma è di tutta quanta la città di riposto e solamente tutti quanti insieme lavorando nel migliore dei modi e collaborando possiamo raggiungere questo audace obiettivo. Domani dalle 10 alle 13 presso il salone IPAB di Via Cavour sarà in programma, oltre ad un incontro formativo, la prima distribuzione dei kit per circa 800 utenze che abitano nella prima zona.